Ha festeggiato con amici e fan i dieci anni dall'apertura dell'atelier Miss & Lady, lo stilista Giulio Lovero, che in questi anni ha sempre creato fantastiche collezioni per donne e piccole principesse. Stoffe pregiate, paillettes, piume, perline, pizzi, tutto per rendere straordinari i giorni e le occasioni speciali che Giulio ha incorniciato per questi due lunghi lustri. Dieci anni di successi, dieci anni di sacrifici, dieci anni di riconoscimenti che racchiudo sempre con una sola parola, passione, perché appunto questo è il riassunto di questi dieci anni. Tutte possono essere Miss, infatti voglio dire, noi ci dà sempre emozione creare collezioni. Il nostro atelier ormai è un punto di riferimento per qualsiasi persona, qualsiasi sposa, qualsiasi donna che vuole essere bella per un giorno. Anche il comune con l'assessorato e le attività produttive non è mancato per festeggiare questo bel traguardo. Non potevamo mancare a questa meravigliosa serata Giulio e i suoi dieci anni di carriera, i suoi dieci anni di passione, i suoi dieci anni di tutto, perché veramente lui ci mette tanto nella sua attività, sempre creduto, e quindi anche noi ci teniamo e dobbiamo essere presenti anche come istituzioni in questi eventi, perché è giusto dare il nostro riconoscimento. Grazie a tutti.